ci siamo creati un dio a nostra immagine e somiglianza ma non è così non è così siamo foglie di un albero buongiorno mi trovo nel terrazzo condominiale del palazzo che hanno edificato i miei nonni e da circa un paio di ore che qua c'è abbiamo la gente di polizia la scientifica e tutti che sono tutti perché ho fatto un crimine pazzesco qual è il crimine ho fatto un murales che si chiama la quinta dimensione qui grazie a tutti